citochinico. Per quanto riguarda la possibilità che ci sia un danno, questa è stata dimostrata e può essere documentata anche attraverso i controlli che per esempio negli atleti vengono previsti con un grado di intensità crescente a seconda di quanto è stata impegnativa la sindrome clinica. Abbiamo deciso di trattare un argomento un po' strano, si chiama diabete urbano, ma di che cosa staranno mai parlando? Perché il nostro cattivo modo di alimentarci ma anche l'ambiente in cui viviamo, se siamo in città o in campagna, in montagna, influenzano come non soltanto alcune malattie ma soprattutto questa storia del diabete che il professor Stefano Ezzegovesi, nutrizionista e psichiatra all'ospedale San Raffaele di Milano, collegato con noi, già lo vedo dagli studi RAI di Corso Sempione, conosce bene e ci racconterà altrettanto bene. Allora professore, intanto anticipo al nostro pubblico che c'è stato uno studio del Health City Institute sui dati Istat, su una graduatoria di città metropolitane, in testa Roma, poi Napoli, Milano e Torino, dove la popolazione residente sarebbe più colpita di altre dal diabete. Ecco perché diabete urbano, giusto professore? Sì, diabete urbano nasce da un'iniziativa inglese e danese per studiare proprio il fenomeno di ripensare alle città e si è visto che due persone su tre affette da diabete vive in città, in grandi città, quindi in metropoli e probabilmente in futuro arriverà a essere 3 più 4, quindi è un dato impressionante e fondamentale da tenere presente per qualsiasi politica sanitaria. È ben nota la influenza positiva, negativa e in ogni caso importante dell'ambiente in cui viviamo. Sarebbe sciocco e antistorico non rendersene conto, ma oggi ci troviamo soprattutto nelle società evolute del cosiddetto primo e secondo mondo, in una situazione di cattività metropolitana o di esilio suburbano oppure addirittura nelle plaghe più lontane dai centri decisionali non soltanto della cultura ma anche dell'economia. Traduco città e campagna. Città e campagna, grazie, sei prezioso la tua divulgazione, bravo. Professore sorride che vuol dire che abbiamo centrato il problema. Insomma, dove dobbiamo campare? Ecco, per essere seguiti. Michele è sempre forbitissimo, ma come dire, è fondamentale avere presente che la città effettivamente comporta almeno due problemi grandissimi. Uno è ci ha praticamente bloccato tutto quello che è il nostro bisogno di muoverci. Noi siamo progettati geneticamente per fare dell'attività fisica quotidiana, quindi al di là dello sport, semplicemente per andare da un posto all'altro o per lavorare. Il fatto che in città questo venga completamente bloccato è sicuramente il primo problema. Il secondo problema delle metropoli è un problema di disponibilità di cibo. I ritmi della città e quindi il fatto che siamo di fretta, il fatto che dobbiamo farci stare tante cose in poco tempo, ci porta a usare molti cibi cosiddetti processati, cioè cibi che sono industrialmente preparati, estremamente raffinati e quindi molto carichi di quei carboidrati, di quegli zuccheri, che rendono poi questo un fattore di rischio per chi soffre di diabete, perché chiaramente lo zucchero non è di per sé un problema, ma quando è estremamente concentrato nei dolci, nei prodotti a base di farina bianca e in tutti i prodotti raffinati, chiaramente può diventare un grossissimo problema. Quindi le città vanno veramente ripensate senza per questo cancellare le città, nel senso che la soluzione non è andare tutti a vivere in campagna, la soluzione è dobbiamo pensare che la città venga riprogettata privilegiando il trasporto a piedi, ma soprattutto facendo in modo che le persone tornino a considerare il cibo come una vera e propria medicina per il diabete, per le malattie cardiovascolari e per tantissime malattie croniche. Bisognerebbe anche riprogettare la viabilità urbana, la mobilità urbana, perché anche chi sta in paese o in contesti dove magari tornare a casa implica dieci minuti di macchina lo fa, chi invece non lo fa e corre, sta in città, non può permettersi un'ora per tornare a casa, vuol dire che mangia quello che trova, mangia quello che trova e mangia con stress. Questa è sicuramente un altro connubio terrificante, credo, la cattiva alimentazione e lo stress vanno a braccetto. È importantissimo, già da tempo si sa che lo stress influenza la cattiva alimentazione, nel senso che quando siamo stressati siamo portati a cercare degli alimenti che siano più confortanti. L'alimento confortante per definizione è un alimento ricco di sale, di zucchero, di grasso e quindi qualcosa che sicuramente non fa bene al diabete, non fa bene alla salute. Però attenzione, è vero anche il contrario, se noi facciamo un'alimentazione ugualmente troppo ricca di prodotti raffinati, povera di frutta e verdura, povera di legumi, povera di fibre, trasformiamo il nostro cervello in una condizione di maggiore fragilità e quindi il nostro cervello alimentato male automaticamente sarà un cervello più fragile, meno resistente allo stress e quindi a questo punto diventa un circolo vizioso. Più stress, più cibo che non mi fa bene, più cibo che non mi fa bene, più stress e quindi dobbiamo interrompere questo circolo. È esemplare quello che dice, integriamo con qualche suggerimento, a parte i cinghiali che sono da sconsigliabili e i monopattini. Quali sono le abitudini scorrette più pericolose da evitare? Parliamo di menu, parliamo di alimentazione. Sì, la prima cosa è che dobbiamo pensare a quello che mettiamo nel piatto anche quando siamo fuori casa, per cui piuttosto che mangiare una cosa al volo, pensiamo che si può benissimo prepararsi a Milano, la chiamiamo schiscetta, non so come la chiamate a Roma, ma comunque un vassoietto, una scatoletta in cui mettiamo alla fine qualcosa che è molto semplice, può essere tranquillamente l'avanzo della cena o qualcosa che prepariamo un pochino di più a cena, quindi della verdura, un cereale integrale, un po' di pasta integrale corta piuttosto che un riso integrale, un farro, un pugno di legumi, un filo d'olio extravergine d'oliva, meglio ancora potenziamo l'effetto antiossidante con un po' di erbe aromatiche, un po' di spezie, una bella mescolata, chiudiamo e ce lo portiamo nello zaino. È il modo più sicuro, non solo per prevenire le malattie come il diabete o le malattie cardiovascolari, ma è un modo ancora più sicuro, dicevamo prima, cibo, stress e cervello, è il modo più sicuro per essere più lucidi, più freschi mentalmente e quindi alla fine anche poi per avere una migliore efficienza mentale se dobbiamo lavorare. Professore Zegovesi, vediamo cosa ha trovato per noi dal web Francesca. Sì, nelle città, cinghiali a parte, ci suggerisce questo articolo, la fit walking, per contrastare il diabete, ma si tratterebbe di una camminata diversa rispetto alla canonica che conosciamo, più sportiva, più sostenuta. Allora, in che cosa consiste questa camminata e cosa ne pensa lei? Può essere veramente un valido aiuto? È un validissimo aiuto, mi piace molto il fatto che in molte città si comincino a organizzare delle attività di gruppo di fit walking, che vuol dire non solo fare fit walking, che in sostanza vuol dire la camminata di quando siamo di fretta e quindi una camminata dove non ci guardiamo in giro guardando le vetrine o chiacchierando, ma siamo diretti a una meta con un passo più svelto. I gruppi di fit walking mettono insieme due cose importantissime per chi vive nelle grandi città. La componente dell'attività fisica che abbiamo detto è fondamentale. Se io muovo i muscoli, i muscoli diventano meno resistenti all'insulina, se diventano meno resistenti all'insulina, chiaramente il mio diabete può migliorare e quindi già questo è un effetto fondamentale. L'altro effetto fondamentale è la componente sociale. I gruppi di fit walking significa che noi stabiliamo una rete dei contatti all'interno di città dove spesso la componente sociale di prossimità, quindi quello che può essere il quartiere, il condominio o altro, non è detto che sia così sviluppata. Teniamo conto che le relazioni sociali sono a tutti gli effetti un nutrimento per il nostro cervello e per il nostro corpo. Le persone sole di solito si ammalano di più di diabete, di malattie cardiovascolari, di tantissime altre malattie croniche, quindi ottima idea mettere insieme queste due camminate veloce e stare in gruppo come un modo per guadagnare tantissima salute. Professore, il diabete non è un problema soltanto italiano, adesso abbiamo parlato un po' dei nostri stili di vita, ma in realtà sono stati fatti studi di incidenza globale che dimostrano che nelle periferie delle grandi città il diabete sia più diffuso rispetto alle zone centrali. Che cosa vuol dire questo dato? Le chiedo se è vero innanzitutto come notizia e poi perché? Sì, è un dato vero che è stato visto inizialmente negli Stati Uniti e quindi si vedeva questa stranissima disparità tra la presenza di malattie croniche e di obesità che erano di più nei soborghi, nelle zone periferiche delle grandi città. L'ipotesi più accreditata è che in queste situazioni dove c'è una disponibilità economica più bassa ci troviamo di fronte a quello che è proprio il paradosso dell'epoca moderna. Un tempo il cibo raffinato e ricco di nutrienti era un cibo per i ricchi, pensiamo al pane bianco piuttosto che alle carni eccetera. Oggi per quello che è l'allevamento intensivo, per quella che è la produzione industriale, il cibo raffinato e quindi ricco di nutrienti, ma troppo ricco di nutrienti e quindi povero di fibre, è disponibile a basso costo, pensiamo a tutte le catene dei fast food, pensiamo a tutti i cibi da asporto veloce eccetera. È disponibile a basso costo e quindi di conseguenza, proprio perché è disponibile a basso costo, trova più modo di attecchire in situazioni dove le condizioni sociali ed economiche sono più basse. Professore, da nutrizionista e diciamo psichiatra, mangiare male influisce anche sull'umore e sul benessere della nostra mente. Questo lo considerano da Ippocrate in poi centrale come problema. Ancora oggi lo è? Assolutamente sì, anzi è importante che questo messaggio comincia ad essere un messaggio forte da dare ai nostri pazienti, ma dare anche alle persone che stanno bene e che vogliono continuare a stare bene. Quindi non pensiamo che mangiare bene serva solo per vivere più a lungo piuttosto che per evitare le malattie croniche fisiche. Pensiamo che mangiare bene, dicevamo prima, la resistenza allo stress. Nello stesso modo mangiare bene influisce tantissimo sulla nostra capacità di avere un umore stabile e quindi non solo di avere meno rischio di soffrire di depressione, ma anche ad esempio di poter avere un atteggiamento più pacifico e quindi più in grado di relazionarsi con gli altri. Ma contemporaneamente teniamo conto che un'alimentazione di questo tipo non abbiamo bisogno di inventare cose complicate. È la nostra vecchia e sanissima alimentazione mediterranea povera, povera da un punto di vista economico, ma ricchissima di fibre, di antiossidanti e quindi di tutto quello che fa benissimo al nostro cervello. Domenico. Io vorrei parlarvi della quantità di cibo che mangiamo, cioè delle porzioni che troviamo quando andiamo al ristorante o al cibo confezionato al supermercato. È infatti curioso scoprire che le nostre porzioni, cioè italiane ma anche europee più in generale, siano molto più piccole di quelle americane. Vi faccio vedere due esempi significativi. La prima regia, guardiamo le patatine fritte, se andiamo in un fast food, in alto vedete le porzioni che ci vengono date in un fast food europeo. La porzione piccola di patatine è quella media di 150 grammi. Sotto vedete quelle americane, media e grande, scusate piccola e media, 300 grammi e quella media, praticamente il doppio della nostra. Ma poi abbiamo anche, lo stesso discorso vale per le bibite. Infatti, vedete, in Europa la piccola è di 250 ml, fino ad arrivare alla grande che è di 500 ml. In America invece la piccola è 590, la più grande è addirittura oltre un litro. Ma professore, questa moda tutta americana del cibo delle porzioni XXL, che purtroppo sta arrivando anche da noi. Perché attecchisce così tanto? Perché c'è questa propensione ad avere sul tavolo più cibo di quello che in realtà potremmo mangiare o di cui avremmo bisogno? Questa è un'abitudine pessima che crea tanta malattia e è molto legata a quello che è il nostro istinto. Noi di fatto siamo uomini moderni, ma continuiamo ad avere un cervello che è programmato per resistere alle carestie. Questo vuol dire che c'è un istinto primitivo in ognuno di noi che davanti a grandi porzioni, la sensazione che ricaviamo è se la mangio tutta sono più sicuro rispetto al pericolo di morire di fame, anche se non moriamo di fame perché non viviamo in una caverna come i nostri antenati. Questo vuol dire che il proporre un alimento in grande quantità e comunque a basso costo va ad attivare un istinto che però vigliacamente è esattamente quello che ci fa più ammalare. Perché se ci pensiamo, se noi mangiamo una piccola quantità, come succede in tutte le popolazioni mediterranee povere, in tutte le cosiddette zone blu, quelle zone del pianeta in cui ci sono tantissimi centenari, loro non è che non mangino i prodotti animali o non mangino i grassi, non mangino la pancetta, ma la mangiano in piccolissime quantità, la usano come insaporitore. Usare un cibo di questo tipo come insaporitore mantiene un perfetto equilibrio all'interno di tutto il nostro metabolismo. Se noi mangiamo un eccesso di cibo chiaramente questo invece comporta degli scompensi. Grazie a professor Stefano Rezegovesi per essere stato con noi. E quanto a voi amici e amici del pubblico, complimenti davvero per aver scelto Elisir. Grazie a tutti.